Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato, cielo sereno e terzo stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola, condizioni perfette per una bella partita di pallone sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno che colpisce verso la porta, grande salvataggio da parte dell'estremo difensore, qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Tentativa in avanti, lungo. La gioca a sinistra, intervento scorretto, sanzionato dall'abito. Rossi Buona lettura difensiva, sarà però il calcio d'angolo. E sulla palla, i compagni aspettano i traversori. E lontano la minaccia. Buona, con grande sicurezza. Schiappa Cassio. E anche stavolta niente di fatto incredibile. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano alcuni. Da un'occhiata verso l'aria. Il pallone ha superato la linea e messa il laterale. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Pronto al tiro. Seguami. E' un pallone da bravo. Bravo, l'albero. E' un pallone da cimura. E' impattato il pallone alla grande. E' riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Ponteggio di 1-0 all'effetto. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Effetto a un passaggio lungo. Un solo gol all'aria forte. Prima d'ora di un gioco. E' imputato. E' una punza. Prova il cross in area. Si appoggia al portiere. Il portiere la spedisce su. Schiappa casse. Prova sul secondo palo. Lungo passaggio in avanti. Popolaro. Tocco morbido. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Buona scelta di tempo dell'estremo di canzone. Rossi fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Quando avete un giorno di presso qui. Che salvataggio da parte del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. L'intervento prechievole. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Circa numero. Può crossare. Si fa largo con grande determinazione. E' ben posizionato. E spazza via la parte. Il primo tempo che si fa. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare. Un vantaggio di uso. Popolaro. Cerca un barco con un pallone lungo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Schiappacasse. Solo un gol tra le due squadre. Vantaggio fragile. Brutto intervento. Fuori tempo. Calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione. Ma l'arbitro non gli risbarmi una ramanzina. E' proprio questo che devono fare. Devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi. E' necessario. Proprio così. Lungo passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ci mette il fisico. E conquista il pallone. La mette in mezzo. Si lancia Duchessa. Ottimo gol per Duchessa. Fuori davvero di me. E' stato molto bravo a colpire il pallone così. Peccato per il risultato. Ma l'unatore sta vedendo istruzione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallo intercentrale. Errore qui. Pallone sprecato. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Sicuro in fase di palleggio. Provano a ripartire da dietro. Siamo al trentesimo del secondo tempo. Scatta verso il pallone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si avvicina la porta. Contata dura. Ottimo disimpegno. Fondamentale. Due sostituzioni e una di la successione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco. Meglio far entrare un giocatore fresco. Stam, stam. Amanti vuol far salire i compagni. Passaggio sulla destra. Si libera la grande. 1-0 il risultato mentre ci abbiamo alla fine. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti pur senza sbilanciarsi troppo. Bello intervento difensivo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Coppolaro. Pochi minuti, addirittura secondi e sarà finita. C'è la palla lunga. In avanti. Cross in arrivo. Fa adesso meglio per allontanare il pericolo. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Il dirottore di Gora detruta in calcio di pulso. Non finisce sull'effetto perché non è un po' tanto di loro. Decide di calmarlo con un dispersione. Iniezione di energia proveniente da bordo campo. Chissà quali saranno gli effetti sulla partita. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Coppolaro. Sbattono ancora contro la difesa. Può colpire. Palla molto angolata nel pericolo. Ponte. Grazie a tutti.